Sono riuscito a convincere Pulch di lasciarmi fare questo video, che in realtà non è un video incredibile, è un video rapido dove vi dico le mie intenzioni per i prossimi tempi. Ho intenzione di fare una specie di spin off della casa del verde, della rubrica la casa del verde e il tutto consisterà nel piazzare dei vasi trappola, le pitfall trap, in giro per casa mia. Io credo ne piazzerò minimo una, se riesco penso almeno tre o quattro. E questi vasi non avranno la sostanza conservante che si usa di solito dentro, fatta di acqua, aceto e qualcosa per rompere la tensione superficiale come può essere il sapone per piatti. Questo perché andrò a controllarle ogni giorno, andandole a controllare ogni giorno posso prendere quello che ci cade dentro e vedere se ho voglia di tenerlo o se liberarlo. Facendo questo io filmerò ovviamente e vi farò vedere quello che trovo e ne parlerò facendo dei video sul canale. che appena il meteo sarà, il tempo sarà un po' più caldo perché ancora adesso è un pelino troppo freddo, ci sono ancora pochi, pochi, poca fauna, poca pedofauna che gira sul suolo e quindi poco, poca probabilità che cada qualcosa dentro a questi vasi. Quindi dovremmo aspettare un altro pochino e poi potremo partire. Non metterò neanche una specie di tetti sopra per riparare dalla pioggia perché comunque io sarò vigile e se vedo che il meteo comincia a dare segni di voler piovere andrò a tirarli su e qualcosa farò insomma. E quindi state in campana perché sta per arrivare questa nuova avventura, chiamiamola, per vedere che fa una gira per la mia natura, per la natura a casa del verde. Se volete potete farlo anche voi tranquillamente per vedere appunto cosa gira a casa vostra nel vostro giardino oppure nei luoghi dove risiedete. Ovviamente segnalate la presenza di questi vasi se volete metterli in giro perché potrebbero causare dei problemi alla gente che passeggia. Magari mettetevi in luoghi un po' riparati, un po' nascosti. Detto questo vi auguro una buona giornata e siate sempre più bene.